Di viato assoluto per i botti di fine anno, fortezza chiusa nel giorno di San Silvestro e alcune modifiche alla circolazione. Sono misure di sicurezza straordinarie quelle adottate nel territorio comunale per la notte di Capodanno. Credo sia successo solo un'altra volta nella lunga storia della Fiera Antiquaria che la Fiera Antiquaria si svolge in concomitanza la domenica del primo dell'anno. E quindi di fatto si sommano le manifestazioni di festeggiamento per l'arrivo del nuovo anno con la presenza dei banchi e degli espositori. E quindi già un problema intrinsecamente legato ai calendari. Poi le misure restrittive comunque di cautela per la pubblica incolumità che il Ministero degli Interni ha emanato dopo i tragici fatti di Berlino. E quindi la necessità di lasciare liberi alcune strade per l'accesso e l'uscita dei mezzi di soccorso. L'identificazione dei soggetti che si recano in posti affollati. Tutto un pacchetto di regolamentazioni che renderanno sicuramente più sicuro l'evento di fine anno e naturalmente anche la fiera. E che potranno dare un qualche fastidio ma direi accettabile ai cittadini se il prezzo è quello della sicurezza. Per quanto riguarda i botti nel Comune Aretino, divieto di accensione lancio nei giorni 31 dicembre 2016 e 1 gennaio 2017. Ho firmato un'ordinanza che non aggiunge nulla di nuovo a quanto già previsto nel regolamento di Polizia Municipale all'articolo 7. Cioè il divieto di utilizzo di botti e strumenti atti a provocare un rischio di ustione, di danneggiamento per cose e soprattutto per le persone. Soprattutto in corrispondenza della festa al prato del 31 Notte. I particolari riguardo al blocco totale del traffico lungo la direttrice via Ricaso e via Buozzi sono stati illustrati invece dal vice comandante della Polizia Municipale Aretina. Il traffico sarà modificato a partire dall'ora 16 del venerdì 30 con l'applicazione di vieti di sosta nell'area interessata alla fiera antiquaria e a via Ricaso e via Buozzi. I divieti di transito a tutti i veicoli partiranno dalle ore 8 del giorno 31 fino alla cessazione della fiera che si presume avvenga intorno alle ore 19.30-20 del giorno primo dell'anno. La fortezza la cui apertura per il giorno di San Silvestro era prevista dalle 13 alle 18 sarà invece chiusa al pubblico ma regolarmente aperta il primo dell'anno con il solito orario.